Ciao Polarine! Buongiorno! Oggi è sabato 4 marzo tra 32 giorni E' il mio compleanno! Perché il 23 è il mio compleanno che faccio 30 anni Fammi bella di ciance! Stamattina mi sono anche truccata un po' Lo metto un po' più vicino E' un po' più scuro come si vede tra le tera ma non troppo E' sugli occhi un colore proprio... Vedi? Veloce! Io sono fatto questo trucco Allora il telefono silenzioso Così E' silenzioso Così possiamo partire con Shopping dal... Eccolo qua! Shopping dal cinese Allora... Ho comprato 4 maglie Ognuna delle maglie 5 euro venivano La prima La prima E' questa qua Con scritto Paese Non so se... Non so se... Si... Nota... Eccolo qua! E' blu... Con tutti questi... Scusate... Con tutti questi... Scusate... Stras... Illumina... Illumina... Illumina di... Pelle... Le lette sono fatte con i strass bianchi E' l'essere tutto fatto di... Questi... Eh... Stupenti... E' meravigliosi... Stras... E'... E'... Questa poi l'ho pagata 5 euro... Si... Infatti stava... Ehm... Il peso... Ecco qua... Noe... Ma l'ho pagata 5... Dalla cinese... Questo è un shopping... Fatto... Dalla cinese... A tutti gli effetti... Che tutto l'ho pagata... E... Questa qua... E' fatta di... Ehm... Un... Materiale... Mmm... A me mi piace come... Perché... Si sente che una... Una qualità... Mmm... Aspettate... Non mi viene... Non me... Comunque... A me mi piace come è fatta la qualità... E ti... Lanettina... Non è lana... È lana... E non è cotone... È... Lanettina... Dalla lana e cotone... Mi piace... Mi piace... Perché... In questo periodo... Si può... Utilizzare... E questa è la prima... Ma... Ce l'ho... Ancora... Nella busta... E' vero che... L'ho comprata... Ieri... Ieri... Ho detto... Faccio prima il video... E poi... Dopo... Fatto il video... Mi... Eh... Altro... Pulirmi... All'interno dell'ammatio... C'è... Toglio... 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 Tutti... I vestiti... Maglie... E pataloni... Che ho... Con lo... Con lo... Con uno spruzzino... O con un tetticente vetro... O... Anche con... Emusso... Polvere... Oppure... Pronto... Legno... Quello che voi... Amate... Utilizzare... Di più... Per pulire... La vostra casa... Io... Prendo... O... Pronto... Oppure... Prendo... Il... Tetticente... Per i vetri... E pulisco... La mia... La madre... All'interno... La mia... Il mio... Il mio ladro... E l'altro... Il mio marito... Pulisco... Tutto... All'interno... E poi... Vado... A... Ripiccare... Tutti... Le maglie... Tutti... I pataloni... Che sanno... Una volta... Togli... Dita... Dentro... Li piego... Tutti... I pelli... E... No... Li... 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 Mi... Ok... Poi... Un'altra maglia... Che... Vi faccio vedere... Vi faccio vedere... Un attimo... Primo il presso... Eccolo qua... Sotto... 9 ma sopra ci sta il presso 5 la maglia che vi parlo che vi parlo la maglia che vi mostro e questa qui non so ecco ma avvicinato si vede meglio il colore è bella martinicalta mi piace con me me la sono misurata perché sono taglie uniche me le sono misurate perché sono taglie uniche queste non hanno una taglia e avevo paura che non mi altasse invece no me la sono misurata me la sono anche tenuta un po più di tempo attosto per te se faceva quel fatto che per usiti che punte perché se tutti l'anno e poi sette la naga per assicuro questa qua è fatta proprio ti la all'interno e all'esterno è fatta proprio di lana avevo voluto che mi potesse fare l'effetto che mi puncese ma non è stato così per fortuna la particolarità di questa maglia che ma dietro è un po più lunga questa è la particolarità di questa maglia che dietro è più lunga e va bene su un sonno su un cis su un patalone diciamo te la te la tutto per quanto dovete fare un servizio perché più lunga ma è bellissima mi piace mi sta bellissimo come tutti e sotto le maglie poi ci sta a quest'altro particolare quest'altro particolare alla maglia infatti mio marito disse ma questo ci interessare applicatore non si può togliere e lui ci disse no amo no amo non si può toglie perché perché se si toglie questo si rompono le le lampo perché nella della maglia sia sia testa che a sinistra alle lampo alla lampo alla lampo che si apre e che si chiude tete muoverà chiudo e ve la io apro e tutte è tutto non si possono toglie perché se non si rompono e questa è un numero che mi piace ma proprio all'epasata mi piace come mi sta questa maglia tosso mi piace il colore mi piace la qualità e le maglie che ha questo cinese sono veramente stra stra contenta per questo ciò pic il tutto ho speso 31 euro quattro maglie da 5 euro e due ciseni e quattro parti cassini poi vi faccio vedere anche quelli non vi preoccupate un'altra maglia e lo stesso 5 lo stesso 5 euro e questa qui sempre la sempre ti diciamo tirana ma mi piace tantissimo perché per chi ha qualche particolare come questi due occhi fatti di non mi viene il nome di questo materiale questo qua poi il cuore le labbra se questo quale sempre te lo stesso materiale degli occhi il cuore per finire a questa scritta aspettate questa scritta è alla fine una cosa tra bellissimissimissima oleee alla fine ci sei il rossetto che che strastra bello che strastra bello questo poi mi sa benissimo e anche questa l'ho pagata 5 euro ve l'ho detto ci sono bellissimi panni che le trovate a poco presto io sono felice che ve le ho preso anche se tra poco viene la primavera ma intanto me li ritrovo il bello me li toto per autunno il verno prossimo queste maglie almeno mi anticipo se non sanno 5 perchè sta venendo da primavera è poterlo l'inverno prossimo le stesse maglie costo come ci sta il prezzo 9 io 4 ho provato 20 sono 80 meglio io che loro un'altra maglia e l'ultima maglia la più bella non è che le altre non siano belle diciamo ma questa è la mia la mia preferita assoluto e qua si vede benissimo il prezzo di 9 e quest'altro di 5 e fate di prezzo innanzitutto eccola qua dicevo che qui c'è un sacchiotto allora mi voglio vedere se che materiale è fatta la maglia è fatta proprio di plate se sa l'inferno prossimo ci starò caldissima pure all'interno infelvata ci sto proprio bella carta 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 e mi sono meravigliata che questa che scusate un attimo che non mi sono ci portate fatto che questa maglia stava cinque mi sono meravigliata e l'ho voluta prendere a tutti i costi è fatta proprio diciamo la seconda maglia si la seconda maglia che ho accetto dopo quella da un patch con le lampone latini questa così ma la particolarità ma la particolarità di questa maglia è che ha tutte queste pochette come si chiamano tutte queste pochette qua non è piena ma ci sono abbastanza non so come l'avete non so se si nota ma ce ne sono abbastanza di questi non è piena però ce ne sono e la maglia di questo colore che c'è particolare che qui c'è ma poi proprio ti eh mh mh sono sulla butta della lingua e non mi viene mh mh Guardate freddo sono tanto bene trovare questa maglia che sarà la maglia secondo non secondo me sarà la mia maglia preferita del difenno 2017 2018 2017 spara 2018 ora non è non è caso di utilizzarla non è neanche periodo di utilizzare questa qua che c'è con le bocchette perché comunque la mattina ecci sole verso le 10 tecnici a fare un po cattini casa e non è caso di utilizzare questa perché se per caso utilizzerei questa fare proprio i frumenti ci farei proprio la sauna in tenuti questa maglia poi ho comprato due sono uguali uno di questo stupendo colore meraviglioso fatto tutto così è strastra bella ragazzi questi qua spettitolo 2 e 50 questo qua 2 e 50 e bellissimo ti non so come definirlo questo colore un lilla un peccionino sporco non lo so come definirlo comunque mi è piaciuto e mi sono preso stesso motello però cambia solo il colore stesso motello è la stessissima taglia e sono preso questo qua ma ve lo faccio vedere aspettato un attimo color peccionino e fatto sempre con i pezzi all'alto con questo porti me letto la parte superiore del seno e mi piace veramente tanto 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 poi infine per finire mi cae patatine ho preso due paesi calzini per me il primo è il composto da te paesi calzini questo qua bianco questo qui c'è l'altro nero che l'ho utilizzato e e ora sta per andarsi a lavare questi quasi non mi sbaglio ne è un euro e cinquanta ne è un euro e ogni paro è fatto così e ne contiene tre parti calzini tre tre parti calzini all'interno l'altro paro che macca qua è nero e sa lavare un ecriccio e bellissimo con questo cartino meraviglioso e l'altro è il bianco sempre con il cartino poi un altro paro è questo qua sempre tre parti calzini all'interno sempre tre parti calzini all'interno uno, due e tre uno è il nero con le stelline bianche l'altro bianco con le stelline nere e l'ultimo criccio con le stelline rosa e questi tre parti calzini che sono tre uno, due e tre sono tre parti calzini un euro e cinquanta un euro e cinquanta questo è stato il shopping per me mio merito si è comprato tre cose che ne aveva tre parti calzini un euro e cinquanta questo è stato il shopping per me bisogno e sono questi sempre calzini sempre calzini sono sempre tre tre parti calzini sa questo criccio questo che è nero e ci sa questo blu questi qua sono semplici soltanto sa cosa dietro ma niente di che un altro parti calzini è pure quello un euro e cinquanta eh mio marito i tempi questi sono sempre tre e sempre un euro e cinquanta questi qua diciamo che sono un po' più particolari se vogliamo sono sempre tre by questo nero questo blu e questo marioncino un po' scuro con questi ti segnini ogni ogni parti cassini ha questo disegno e questo sono per mio marito le uniche le uniche cose che sempre su mio marito tipo lo shopping l'ho fatto io io vi mando un paccio enorme ho praterato per non so quanto tempo ho praterato il shopping è finito il shopping non vi voglio non voglio non voglio prolungare di più che sarebbe una anconcia per voi sentirmi blatterare ehm sarebbe una anconcia sentirmi blatterare per così tanto tempo io vi io vi saluto e ci mettiamo al prossimo prossimo blu blu al prossimo video un bacio alla prossima ps io ora mi metto anima coraggio e vado a pulire la camionata letto per sistemarmi tutto il mio shopping ciao